voci della chiesa iblea un programma della redazione di radio caris in blu ragusa caro saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radio caris io sono toti e con me oggi studio don riccardo bocchieri parroco della parrocchia di santa maria di portosalvo a marina di ragusa salve don salve un saluto a tutti tu sei stato scelto dal vescovo come delegato diocesano per la commissione regionale della diocesi per l'organizzazione dell'evento di pellegrinaggio della lampada di san francesco d'assisi che ha coinvolto tutte le diocesi di sicilia e che concluderà il suo pellegrinaggio per la diocesi di ragusa proprio a marina di ragusa il 2 agosto sì a novembre si è costituita questa commissione regionale di tutte le diocesi dove quest'anno tocca alla regione sicilia offrire l'olio della lampada che sta davanti alla tomba di san francesco c'è una lampada che tutto l'anno viene alimentata con dell'olio e ogni regione offre quest'olio ad assisi quindi la regione offrirà quest'olio e le diocesi sono incontrate per fare un cammino un percorso un pellegrinaggio sia regionale ma anche poi singolarmente nelle diocesi e preparare la comunità dei fedeli a questo momento celebrativo del 4 ottobre dove viene offerto l'olio per la lampada c'è una quantità di olio che vi è stata suggerita da raccogliere per poi donarlo a chi secondo il protocollo che hanno mandato da assisi dal sacro convento ogni diocesi donerà 60 litri d'olio olio d'oliva che verrà donato ad assisi per le mense della carità francescana la quantità d'olio che le diocesi in più raccoglieranno invece sarà dato alle caritas diocesane sempre con lo scopo di poter aiutare tutte quelle mense o i bisogni che la caritas potrà soddisfare la lampada cosa sta a significare e qual è il messaggio che si vuole donare ai cristiani la lampada è sempre il segno della luce e della speranza e della fede in modo particolare la lampada che alimenta lì ad assisi è il segno della fratellanza e della carità cristiana come quel poverello di assisi ci insegna di quell'amore fraterno e caritatevole che lui aveva nei confronti di cristo e quindi di quella passione verso il signore gesù e quindi poter trasmettere i valori della fratellanza e dell'unione e quindi il segno della lampada che arde quindi questa lampada che gira e ha girato nella nostra diocesi è per dare ancora una volta quel segno della luce quel segno della speranza della pace della fratellanza come san francesco ci insegna la parrocchia di marina come si sta preparando a questo evento la parrocchia di marina si prepara sempre bene ad ogni evento che viene promossa a maggior ragione in estate e la parrocchia di marina abbraccia una moltitudine di fedeli provenienti anche di altre realtà parrocchiali che già hanno vissuto il momento ecco della celebrazione della preghiera attorno a questa lampada che già da maggio nella diocesi ha iniziato il suo pellegrinaggio nelle varie comunità parrocchiali quindi si prepara bene non solo a vivere il momento celebrativo ma anche a quella che sarà l'offerta che ognuno potrà fare di una bottiglia d'olio per la carità per l'amore che può manifestare questo segno per i fratelli nel bisogno ma soprattutto per la possibilità di alimentare quella lampada che ha da sì sia il segno della pace quindi l'olio anche come sinonimo di luce di speranza e soprattutto in questo periodo storico anche portatore di pace più che l'olio è la lampada e quindi la luce sicuramente l'olio è il segno della carità per eccellenza e della forza anche nella vita sacramentale e quindi questo diventa ancora una volta l'augurio tema proprio della commissione che ha scelto per questo pellegrinaggio e custodiamo la bellezza accendiamo la speranza quindi custodire la bellezza del creato e dell'amore che il signore ogni giorno ci dona e quindi di essere custodi di questo ma di accendere la speranza perché proprio questi tempi difficili che stiamo vivendo possono ancora una volta essere illuminati possono essere rischiarati da questa lampada che sta girando che arde nel cuore di ciascuno di noi soprattutto attraverso la luce della fede e della speranza e della carità che sono le tre virtù che nel battesimo noi abbiamo ricevuto grazie donne per aver accettato il nostro invito caro saluto a tutti gli ascoltatori è un caro saluto anche dal nostro don riccardo grazie a tutti voi un augurio di pace di serenità ma soprattutto della luce del signore che risplenda del nostro cuore avete ascoltato voci della chiesa iblea un programma della redazione di radio caris in blu ragusa